Conosco, no, la metà non mi conoscete, dunque mi chiamo Cristiano Pavorino, parlo in italiano perché non conosco nessun'altra lingua, anzi parlo Umbro, lavoro online da moltissimi anni perché ho brevettato un metodo alimentare per perdere i pensieri, lo sono vedete tutti però è il programma ipolicemico, quello di cui sono esperto da vent'anni perché ho studiato biochimica, non medicina, non credo che sia andato mai da un nutrizionista, ma sia andato da un nutrizionista è come quando rompete la macchina e andate da un'idratica e io vi mostro da vent'anni che il sistema dei calorie è completamente inadatto e inattendibile al vostro corpo, perché? Oggi ho clienti in tutto il mondo, ho il sito in quattro lingue e fortunatamente non ho fatto mai ubbicinizzazione.